I parcheggi mancano, le multe invece no. Domenica di caos per i bagnanti a Pescara, Riccardo Padovano del Sibcommercio lancia un appello al nuovo sindaco Masci ma anche alle amministrazioni vicine per cercare di risolvere la problematica e lo fa anche a nome degli altri balneatori. Allora innanzitutto quando si fanno opere pubbliche e a ridosso dell'estate è bene che una buona amministrazione, mi rivolgo a quella del passato, attraverso il suo corno programma il primo di maggio si stoppano tutti i lavori di attività pubbliche perché entriamo nella stagione estiva. Noi abbiamo sempre detto che nella zona di Porta Nuova dove il flusso dei bagnanti sono notevoli perché prende tutta la parte a ovest della provincia di Pescara quindi mi riferisco ai 17.000 abitanti che vivono intorno all'area dell'università e dei palazzi giudiziari per non dire quelli di San Giovanni Teatino. Ma il problema è che in quell'area vanno potenziati i parcheggi, con la nuova costruzione che hanno messo in piedi sono stati tolti circa 200 posti macchine e quindi va ripristinato i 200 posti macchine. Come? Quindi abbiamo chiesto al sindaco Masci di fare subito un tavolo di lavoro e mettere in piedi l'emergenza. Su questa tenuta qua non riguarda soltanto Pescara, Pescara Porta Nuova ma anche Pescara Centro, l'altra sera durante le notte della Movida è successo di tutto. Allora la strada parco finché non entra in funzione si metta subito a disposizione dei bagnanti e anche sul discorso di Mondesilvano non è pensabile che a Santa Filomena si fermi il parcheggio e poi su Mondesilvano non si possa parcheggiare. Adesso abbiamo due amministrazioni che insieme possono dialogare, noi balneari siamo favorevoli che le amministrazioni lavorino, io non voglio fare le interviste per lamentarmi, voglio fare le interviste per promuovere la mia città, per dire che Pescara è bella perché tutto il lungomare, 22 km di costa, devono essere potenziati. Però domenica noi abbiamo avuto il primo giorno di stagione balneare, chiaramente vedersi le macchine multate perché erano fuori ed è tutto quello che è fuori legge va rispettato alla legge. Però a volte capita che nel momento in cui di grande tensione una persona dica dopo 45 giorni di brutto tempo, adesso mi devo prendere la multa perché mi voglio godere il mare. Grazie.